Come targettizzare il tuo profilo Instagram? Se hai un profilo con pochissime visualizzazioni e pochissime interazioni, vuol dire che hai un profilo non targettizzato. Ecco le mie tre tips. 1. Vai nella pagina Esplora e inizia a cercare le persone in target con te. 3. Persone magari che fanno network, persone che magari amano la musica e inizia a interagire con loro, con i like, con i commenti e guarda le loro storie. 2. Il following. Inizia a togliere dai tuoi follower tutte quelle persone che non sono in target con te e molto spesso sono anche dei fake. Mi raccomando, bacci piano, pochi alla volta, un massimo di 60 all'ora, altrimenti Instagram lo vedrà come un bot. 3. La caption. I tuoi contenuti sono vitali, quindi incomincia a pensare a chi ti sta rivolgendo e cosa vuoi dire ai tuoi follower. In questo modo i tuoi follower saranno in target e apprezzeranno moltissimo quello che tu stai scrivendo. E ultima cosa, mi raccomando, la call to action. Questi erano i miei consigli, mettili subito in pratica e scrivimi nei commenti se hai bisogno. Ci vediamo alla prossima!